Non c'è ancora l'ufficialità ma sembra ormai quasi confermato il rientro in classe degli studenti delle scuole superiori per il prossimo lunedì. Un ritorno anticipato quindi rispetto a quanto indicato dall'ordinanza regionale attualmente in vigore che per gli istituti superiori prevede la didattica a distanza fino alla fine del mese. A margine del consiglio regionale di questa mattina il governatore Francesco Acquaroli ha ribadito che la data del 25 gennaio rimarrà un'ipotesi ancora fino a domani quando arriveranno i nuovi dati relativi all'indice RT e al numero di sintomatici giornalieri. Innanzitutto è un'ipotesi di data perché la scelta definitiva avverrà probabilmente nella riunione che si svolgerà mercoledì prossimo quando sia l'indice RT sia il dato dei sintomatici giornalieri sarà chiaro e a tutti in maniera anche più forte e consapevole. Se questi presupposti si verificheranno tutti credo che dalla prossima settimana si potrà tornare con le lezioni in presenza al 50% e insieme alle lezioni in presenza al 50% cercheremo di mettere in campo tutta una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza nelle scuole. Iniziative che già sono state in qualche maniera realizzate in qualche tempo fa sostenendo i genitori e gli alunni e le famiglie nell'acquisto di sistemi per la didattica a distanza, poi oggi interverremo sulla sanificazione degli ambienti e interverremo sulla reazione, sul ricambio e ricircolo dell'area delle classi nelle scuole. Quando abbiamo emesso l'ordinanza i parametri erano molto più alti e soprattutto c'era stata una restrizione a livello governativo, quindi le motivazioni dell'ordinanza sono state dettate più che altro da un restringimento dei parametri RT a livello nazionale. Invece oggi i dati che abbiamo sono più confortanti perché la curva è in discesa e quindi siamo contentissimi di dare questa notizia. Adesso aspettiamo di analizzare i dati di oggi e di domani prima del tavolo con il mondo della scuola per dare poi dopo ufficialmente domani la notizia della riapertura. Diverse invece le misure ipotizzate per garantire un rientro in sicurezza nelle aule. In primis la possibilità confermata dall'assessore alla sanità a Saltamartini per studenti, docenti e personale ATA di sottoporsi al tampone rapido recandosi in uno dei punti attualmente allestiti per lo screening, anche se questo risulta essere in un comune diverso da quello di residenza. A seguito del consiglio regionale di questa mattina l'assessore ai trasporti Castelli ha invece sottolineato la necessità di aumentare da parte del governo nazionale le risorse destinate alle marche per implementare i servizi di bus aggiuntivi, risorse che ad oggi si traducono in circa 3 milioni di euro. Infine come riportato dall'assessore con delega alle infrastrutture e ai lavori pubblici Baldelli diversi saranno gli interventi per garantire più sicurezza attraverso la sanificazione degli ambienti scolastici. Aspettavamo un intervento governativo in tal senso, non c'è stato, quindi stiamo recuperando risorse per garantire la strumentazione necessaria per la ventilazione meccanica controllata delle nostre aule che garantiscono il ricambio dell'aria, quindi una funzione anti-covid, ma saranno interventi strutturali che serviranno anche per il futuro. Gli edifici non sono di nostra proprietà ma sono di proprietà provinciale e comunale, quindi chiederemo la partecipazione di questi enti proprietari per rivolgersi a ogni tipo di scuola, di ogni ordine e grado. Per quello che riguarda i tempi noi saremo in grado, dopo vedremo anche le disponibilità dei comuni e delle province, di realizzare un bando in cui i comuni potranno partecipare per creare subito una gradatore in due o tre settimane. Il resto poi verrà demandato agli altri enti che sono proprietari degli istituti scolastici.